Buongiorno amici, questa è l'edizione del resto del carino Tg del 3 dicembre. Cominciamo parlando dei crash. E' stato sgomberato verso le 6.30 lo stabile Bologna Motori in via Donato Creti, occupato quattro giorni fa dal collettivo antagonista crash. Quando è intervenuta la polizia nel capannone non c'era nessuno, ma poco dopo almeno una ventina di ragazzi è giunta sul posto e ci sono stati attimi di tensione. I rappresentanti di crash infatti hanno bloccato il traffico della strada con i loro corpi e con la loro roba, reagendo con calci e pugni all'intervento degli agenti. Ed è volata anche qualche manganellata. La scena si è ripetuta poco dopo all'incrocio tra via Stalingrado e via Donato Creti e una ragazza ferita è stata medicata sul posto dal 118. All'operazione hanno partecipato anche alcuni carabinieri e uomini della Digos. Il proprietario dell'ex Bologna Motori, vuoto da anni, aveva subito sporto querela contro l'occupazione dei crash del 29 novembre scorso. Adesso cambiamo decisamente tema e passiamo al Motor Show. Oggi e domani le giornate dedicate alla stampa e agli operatori, quindi un'apertura anticipata. Il 5 dicembre l'inaugurazione ufficiale con la presenza del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Andiamo intanto a scoprire uno stand che è stato allestito dalla Polizia Stradale e dal resto del Carlino sui temi in particolare della sicurezza stradale. Molte le iniziative e gli ospiti che interverranno. Ascoltiamo il servizio di Alessio Bertini. Divertirsi e guidare senza pericoli. Tra auto nuovissime, concept car e tanti motori c'è anche uno spazio dedicato per parlare di sicurezza stradale. La Polizia di Stato sarà al Motor Show con uno stand dedicato a come pervenire gli incidenti. Tutto grazie a giochi, suggerimenti e addirittura un concorso dedicato a chi guida, ma anche ai più piccoli, spesso vittime e innocenti della strada. Sicurezza quindi all'insegna della tecnologia. I visitatori potranno cimentarsi nella creazione di uno slogan sulla prevenzione degli incidenti. I migliori saranno pubblicati giorno per giorno sui quotidiani del gruppo QN e il resto del Carlino, da sempre attento a queste iniziative. Ci saranno poi anche video e filmati di ricostruzioni tridimensionali di incidenti stradali, perché capire quali sono le situazioni a rischio aiuta a migliorare il nostro comportamento su strada. Proprio per questo la Polizia ospiterà oltre 600 studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori bolognesi, tutti in odore di patenti più sensibili verso il tema delle morti stradali. Non mancheranno ovviamente personaggi dello sport e dello spettacolo, da Giusefa Ide, Margento a Pechino su Canoa, fino ad Andrami in Gutti, Oro nella lotta greco-romana, inoltre noti presentatori e commentatori televisivi come Marino Bartoletti. Il maltempo ha colpito duro in questi giorni con l'esondazione del Reno ieri nella zona di Malalbergo. Adesso il fiume bolognese viene tenuto sotto osservazione e c'è uno stato di allerta. Cerchiamo di capire come viene monitorata la situazione nel servizio di Bruno Casalini. Le violente piogge dei giorni scorsi, circa 80 mm nelle ultime 48 ore, hanno determinato un forte innalzamento del livello del fiume Reno. Per far fronte a questa situazione, già da venerdì pomeriggio abbiamo iniziato i primi scarichi della nostra rete idraulica, appunto per favorire il deflusso delle acque verso il fiume Reno. Poi dopo, con le piogge di sabato notte e domenica notte, ci siamo trovati con il nostro reticolo idraulico in perfette condizioni di ricevere l'acqua che poi è venuta. È chiaro che siamo in allerta perché abbiamo una veicolazione d'acqua dei livelli lunghi nostri canali abbastanza alta in questo momento, però è tutto presidiato e sotto controllo. Se non sopraggiungono eventi meteorici di particolare interesse o inserimenti da parte di canali di acqua esterna nel nostro reticolo, noi siamo in una fase di allerta, ma non di allarme e neanche di pericolo. Ed eccoci al capitolo della crisi economica. Vediamo come i commercianti vogliono far fronte all'invadenza, alla forza di questa crisi. Intanto ci saranno dei saldi anticipati al 3 gennaio. Vediamo il servizio di Alberto Maio. Saldi anticipati contro la crisi economica. Inizieranno il 3 gennaio in Emilia Romagna. I saldi di fine stagione lo ha deciso la Giunta regionale con un provvedimento approvato ieri. In questo modo, ha spiegato l'assessore al commercio e turismo Guido Pasi, la Giunta ha inteso dare una risposta positiva alle richieste delle associazioni imprenditoriali del commercio. Secondo l'assessore, l'anticipo al 3 gennaio, ovvero al primo sabato del mese prossimo, favorirà la possibilità per le imprese del commercio di instaurare una politica di sconti sui prodotti, anticipando in tal modo una misura diretta alla lotta contro il carovita, che da un lato permette alle famiglie di soddisfare le proprie necessità a prezzi ridotti, dall'altro consente alle imprese di aumentare i volumi di vendita. La proposta di anticipo è stata condivisa anche dall'Associazione dei consumatori Emiliano Romagnole. Con la decisione assunta dalla Giunta regionale, viene anche anticipato al primo sabato di luglio l'inizio delle vendite estive di fine stagione. i saldi potranno durare due mesi. Con questo provvedimento si omogenizzano i periodi delle vendite di fine stagione con quelli di regioni vicine, come il Veneto, la Lombardia, la Liguria e il Piemonte. E adesso una notizia che riguarda noi. Questa mattina al resto del Carlino si è tenuto un interessantissimo forum, presenti i quattro candidati del Partito Democratico alle primarie, che dovrebbero qualificare appunto il candidato sindaco del centro-sinistra. Erano presenti Maurizio Cevenini, Flavio Del Bono, Andrea Forlani e Virginio Merola. Li abbiamo ascoltati anche in un servizio che sarà pronto più tardi, lo potrete seguire sul nostro sito. Chiude qui l'edizione del resto del Carlino Tg del 3 dicembre. Arrivederci alla prossima settimana.